Quello di agganciare il Comitato di Liberazione di Verona fu quello di agganciare il Comitato di Liberazione di Verona che era abbastanza in difficoltà. E una delle cose più tristi fu che pochi giorni, forse due giorni prima dell'arresto incontrai tutti i membri del CLN, del secondo CLN io consigliai loro, perché avevo avuto proprio da Nino che aveva dei buoni contatti in questura di suoi allievi che c'erano degli arresti in fieri e nessuno o ha voluto credermi o nessuno ha ritenuto di dover scappare e quindi tutti sono stati presi e il CLN è sparito in una notte, credo in un giorno. I componenti del secondo CLN erano Francesco Viviani Giovanni Domaschi Giuseppe De Ambrogi Giuseppe Pollorini Giuseppe Marconcini Guglielmo Bravo e Angelo Botturini vennero tutti deportati in Germania nessuno di loro si salvò venne catturato anche Vittore Bocchetta che fu internato nel lager di Flossenburg. Ecco, dopo questa catastrofe del Comitato di Liberazione Meneghetti si pose il problema e mi diede il problema di ricostituire il CLN e la costruzione del CLN è stata abbastanza difficile per il Partito d'Azione è stato disegnato Zorzi per quanto riguarda il Partito Comunista venne da fuori Idemo Mercandino che fu mandato dal Partito a Verona Idemo Mercandino aveva fatto la scuola in Russia era stato in Spagna era veramente una persona che per un ragazzo come me era di grande era un maestro di grande estinità e veramente devo a lui se sono ancora vivo perché gli insegnamenti della scuola di Partito erano tali che superavano la conoscenza comune poi venne da fuori ancora Goffredo Loprieno per il Partito Socialista come vedete era un CLN che con Verona aveva poco a che fare perché io ero un ragazzo Zorzi stava chiuso in casa socialisti e comunisti erano importati io avevo molte amicizie a Monte durante il periodo del liceo con Giorgio Zanotto che era presidente della FUCI fin allora, credo però non avevo amicizie radicate nell'ambito veronese se non con Monsignor Grazioli che era il mio professore al liceo e che mi aiutò insieme a Zionino in alcuni momenti difficili perché ho avuto dei guai durante il periodo liceale per posizioni non ortodosse in realtà l'ambiente cattolico veronese non voleva mischiarsi con la resistenza i vecchi popolari erano tutti schedati e seguiti quindi l'ambiente antifascista cattolico veronese non voleva entrare in rapporto diretto perché sarebbero stati arrestati rapidamente grazie a tutti